Siamo ragazzi e bentornati sul canale, siamo sempre su Fortnite, oggi domenica 8 agosto andiamo a vedere le novità del negozio oggetti Sempre in modo molto molto veloce, quindi non perdiamo tempo subito Abbiamo i band of steel fighter, Cammy e Guile, bellissimo Quindi abbiamo Cammy con destini selezionabili, con il suo dorso colativo che è l'aurora militare Poi abbiamo Guile, bellissimo anche lui con destini selezionabili Con il suo dorso colativo KO, poi abbiamo una schermata di cremento Un emote, il cannon spy che abbiamo l'altro emote, il flash kick di Guile 2002 anziché 3002 Poi abbiamo anche il bundle, l'attrezzatura Cammy e Guile, quindi abbiamo l'ascia bovi della Delta Red Poi abbiamo l'ascia tattica di Guile e abbiamo il Vector V Trigger, un delta plano bellissimo 1600 anziché 2004, oppure possiamo prendere il tutto separatamente in questo modo qua Ma andiamo più in basso perché abbiamo gli oggetti in evidenza Abbiamo Zucchi, 1200 VB con due stili selezionabili con il suo dorso colativo che è Tana Poi andiamo avanti e abbiamo Vespa di Rame, 1500 VB, bellissimo Con il dorso colativo che è il cacciatore striato, molto molto figo Poi abbiamo ancora il pugno della forza da 1200 VB, ancora Cuglio, copertura da 300 VB Poi abbiamo Manichino, 1200 VB, due stili selezionabili con il dorso colativo svolta sbagliata Anche lui con stili selezionabili, poi abbiamo Zucchi, strumento di raccolta da 500 VB, ancora Crash Test 300 VB Abbiamo Abstract, 1500 VB, due stili selezionabili Con il dorso colativo la borsa di etichette Andiamo più avanti perché abbiamo Glacialix, 800 VB, ancora Improvvisa Pollo, 500 VB, un Emote Poi abbiamo il dorso colativo Germoglio di Sole, ancora Rimbalzo Incrociato Poi abbiamo Sproing, un'altra emote E vediamo più in basso che cosa abbiamo Ed ecco qua signori, Ariana Grande, mamma mia, incredibile il bundle di Ariana signori Ed eccola qua, bellissima, ma veramente fatta bene Due stili selezionabili, con il dorso colativo il Piggy Smalls Poi abbiamo lo strumento di raccolta del distruttore 7 rings, bellissimo E ancora abbiamo il deltaplano, le vele zuccherine E poi abbiamo un emote unicorno fluttuante Troppo figo, 2008 anziché 4005 Oppure possiamo prendere il tutto separatamente in questo modo qua E mentre più in basso non potremmo mancare Mashmallow, il bundle di Mashmallow Eccolo qua Mashmallow con la sua emote Mashwalk Poi abbiamo lo strumento di raccolta di Maggie Mello e Mello Rider Il deltaplano 2003 anziché 3003 Oppure prendiamo il tutto separatamente E più in basso abbiamo Riff 2 signori Un emote, fuori le luci, 200 VB, bellissimo Poi abbiamo Dissidente Melodica, 1200 VB con tre stili selezionabili E ancora abbiamo l'armonizzatrice, 1200 VB, sempre tre stili selezionabili E ancora il Pest Band, tre stili selezionabili Prodigio Pop, sempre tre stili Ampiezza e ancora Riverbero, Syncopator Charleston, distruttore del synth Poi abbiamo l'attenuatore Insomma, un sacco di roba, un sacco di roba bella Oppure possiamo prendere i bundle Eccolo qua, il bundle sul volume con tutte le ragazze che abbiamo visto finora A 2008 anziché 6000 più la schermata di caricamento finitura rotata Oppure possiamo prendere i ragazzi, eccoli qua Con la schermata di caricamento top top Tutto molto molto figo Ma andiamo più in basso perché abbiamo Riff 2 ancora Signori, attenzione, Milite della Festa 1200 VB, bellissimo Poi abbiamo il Teschio Scintillante da 1200 Poi abbiamo Vida Notturna 1500 Ancora MVP di gruppo Poi abbiamo Diva del gruppo, Stella del gruppo Un sacco di roba E ancora Riff Tour DJ Bob In un nuovissimo stile bellissimo Poi abbiamo Gioco di Luce come dorso decorativo 2000 VB, ancora abbiamo Vision Eccola qua, quattro stili selezionabili Con dorso decorativo e lo zaino DJ Ancora possiamo prendere i coltelli leggeri di 1200 VB E ancora Luce Notturna 800 VB, Light Show Poi abbiamo il bastone di torcia, strumento di raccolta Cavadire luccicante, il deltaplano Vai coi bassi, un emote Lightstick, 800 VB, un altro emote Febbre della disco, sempre emote Breakdance Insomma, un sacco di roba pure qua Il bundle al Blue Sport Che praticamente, eccolo qua, Blue Sport Che è questo tipo carinissimo Molto 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 figo Con il suo torso decorativo che è l'esemplare di Staro Bellissimo pure questo Poi abbiamo, strumento di raccolta La spada Argus Abbiamo una mimetica di Blue Sport Come copertura E poi abbiamo Uno spray Due spray Tre spray Ben quattro spray 1800 anziché 2600 Oppure prendiamo il tutto separatamente E più in basso abbiamo le offerte speciali Sneaky Eyes Ormai lo conosciamo Sneaky Eyes L'orso decorativo che diventa Katana 1800 VB Che ancora più in basso Che cosa abbiamo Le offerte a tempo Il bundle di da bene Credito ultimo 20 euro e 9 centesimi L'hanno abbassato tantissimo Bellissima sta cosa Abbiamo Testidi di Joker Testidi di Poisonivi Testidi di Remmita Poi i dossier di Florileggio Gno di Morta Il Bema di Mita Strumenti di raccolta L'incorotore Lasciata del Tiro Mancino Vandetta di Joker Lascia pesca una carta Più 1000 VBAC A soli 20 euro Raga questa è figa Questa dovete prendere Assolutamente E poi abbiamo Incarichi Punto di Rottura Eccolo qua 7 euro e 99 Per il costume Il dossier curativo E gli incarichi Che ti sbloccano Fino a 1000 VBAC Che questi qua Sono gli oggetti Poi abbiamo Il pacchetto Ascesa delle Ombre 15 euro e 99 Vediamo poi Che cosa abbiamo Schelli Ombro Cello Ombra Ombra perfetta Borsello Estremo Poi abbiamo Le ali di Cello Ombra Le ali perfette E la copertura 15 euro e 99 E più avanti Abbiamo il pacchetto Maestri di Magma 14 euro e 99 Con un inceneritore Doppiogramma fiammeggiante Raggana rock infusione Piromania piumata Occhi di brace E copertone in fiamme Vediamo cos'altro Abbiamo più avanti Pacchetto Domino di Dizzi 3 euro e 99 Abbiamo Dizzi Dorsi curativo Sto interno di raccolta E 600 VBAC In omaggio Poi abbiamo ovviamente 25 livelli di pass battaglia E la nuova Crew di Fortnite Ragazzuoli Abbonamento Mensile Ogni mesi del pass battaglia Incluso il pacchetto Crew mensile 1000 VBAC E le ricompense Del Rift Tour Attenzione A non perdervi questa roba Ma andiamo a vedere Il pacchetto Crew mensile Di questo mese E cosa ci da Sky estiva Guarda quanto è figa Questa tipa Con gli stili selezionabili Molto molto bella Poi abbiamo Il suo dorso decorativo Che sono le gita Maledetta dell'Aquila Poi abbiamo La spada epica Della forza E abbiamo Ben due coperture Eccole qua E una schermata Di caricamento L'incarico pomeridiano Tutto questo 11 euro e 99 Più tutto quello che vi ho detto Ragazzuoli Come sempre Se volete supportarmi In basso a destra Supporto a un creatore Codice creatore Lord Criamo Scritto Lord Criamo Premere il pulsante Accetta E shoppate felici Detto questo Io torno sopra Vi ringrazio Per aver visto questo video Vi saluto E vi do appuntamento Sempre sul canale Ciao ragazzi Accetta 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 Grazie a tutti.